Vergine Maria, Madre di Gesù, fateci santi. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Conserva in noi la grazia della salute fisica e morale, e la devozione sempre viva alla Beata Vergine Maria, di cui siamo veramente riconoscenti. Ricordo questo particolare della Madonna. Una volta non sapevo che c'era la Madonna del Rosario, che la dovevano portare in processione. e la vedo uscire dalla chiesa, cosa fanno? Fanno la processione della Madonna del Rosario, la processione. Non lo sapevo questo, ne sono andato in processione. Appena l'ho visto e guardato, e ho detto, signora mia, quanto siete bella. Una cosa bambina, ma l'ho guardata fisso a me. Da quel giorno pare che la vedo sempre nel sogno. La nostra scena è un'accessione. Allora, come ti sono andato in processione. Non lo sapevo questa.